L'evoluzione della specie non è solo all'interno del veicolo ricreazionale, ma anche all'esterno. Ecco, fino a vent'anni fa i semi integrali non erano così diffusi come adesso. Erano molto più diffusi i mansardati, molto più diffusi i sempreverdi motorhome, ma il semi integrale era un po' difficile. Oggi non c'è marchio prestigioso e importante che nella propria gamma, nel proprio catalogo, non abbia il semi integrale. Allora, l'evoluzione della specie parte da un principio che non c'è nulla di così eterno e immobile, neanche nel mondo del camper e del caravaning. Questo, nella fattispecie Mobilvetta, l'ha sempre avuto presente. Tanto è vero che nella sua linea dei prodotti, parliamo fino dai primi anni in cui si produceva, seppur fosse un marchio di fascia alta, era in grado di offrire dei veicoli di accesso più contenuti, economici, pensate a nuvola per esempio, piuttosto che a salire subito su una fascia di alta grande come Euro Yacht, i famosi motorhome. Vi porterò a bordo per scoprire invece la parte interna di questo prodotto e del marchio, che si riconosce subito per un motivo, i colori e le linee dei mobili. Seguiteci! Il marchio Mobilvetta è sempre stato un po' l'elegantone di famiglia, un po' quello che doveva andare a identificare la media borghesia, in cui il lusso c'era ma non era così gridato. Questa è rimasta la base di partenza. L'evoluzione arriva proprio dove si va a vedere il dettaglio e dove si va a vedere le disposizioni interne, lo spazio. E qualcuno potrebbe opinare dicendo ma lo spazio a bordo è risicato nei passaggi tra la cucina e la zona notte. In realtà semplicemente cambiano le disposizioni e le priorità di spazio all'interno del camper. Se voi guardate la dinette, nell'appunto di ingresso, troverete un tavolo di dimensioni casalinghe. In quella dinette si mangia in otto. E guardate bene che a ben vedere la dinette non ha una difficoltà nell'essere abitata anche semplicemente da due persone, perché il tavolo è traslabile e permette a tutti gli effetti di poter essere utilizzato muovendo una mano sola e ruotando il tavolo come noi maggiormente vogliamo. Questo permette di avere una vivilità che altre piante non hanno, ma soprattutto permette anche, come evoluzione della specie, di avere la possibilità di essere vissuto in maniera diversa rispetto a quello che era un camper di 30 anni fa. Perché? Perché c'è più spazio nella parte anteriore, nella dinette, perché il tavolo è più comodo, perché è un meccanismo che vi ho fatto vedere di movimento più semplice di quello che poteva essere 20 anni fa. C'è un'evoluzione della specie anche nella qualità dei materiali. Oggi parliamo di ecopelle, per un rispetto anche dell'ambiente, e perché si parla di materiali che sono facilmente lavabili, trattabili e resistenti. Un lavello con un coprilavello che funge da tagliere, ma non solo, il coprilavello non è fatto per la totalità del lavello, ma è fatto in modo tale che uno spicchio di questo lavello rimanga scoperto. Così io posso ugualmente utilizzare il lavandino, scolare l'acqua e avere un piano d'appoggio generoso. I pensili hanno, innanzitutto, tutti gli ammortizzatori a scomparsa, ma sono con ripiani all'interno frangipiano. Questo vuol dire che se io posiziono degli oggetti, dei barattolini qua dentro, non scivolano durante una frenata. Ma non solo, anche quelli che sono ripostigli a giorno come questo, che sono retroilluminati, perché vedete la mia mano che è retroilluminata, hanno un bordo di contenimento. Sono attenzioni che vengono riservate a un veicolo di fascia alta. No, sono attenzioni che fa chi progetta un camper perché lo vive. Che non si ferma soltanto sulla carta a progettare una cosa bella, come un pensile retroilluminato, ma l'ha provato, l'ha vissuto in prima persona. Un armadio ad altezza di guardaroba di casa. Non è un armadio a metà, non è un armadio ad altezza di guardaroba di casa. E come tutti i guardaroba di casa, devono avere necessariamente anche il vani con i cassetti. In questo caso i cassetti sono rappresentati da dei ripiani che si possono ribaltare. Per accedere al letto nella parte alta non c'è una scaletta che si perde, si muove, cade, si appoggia sopra, non si sa mai dove mettere, in mezzo dà fastidio. No, è una scaletta all'interno del vano della porta che scompare tirandola su, ma che permette di poter salire e accedere e quando è di giorno, senza che questa scaletta dia fastidio, scomparire direttamente nella porta d'accesso dell'armadio. Il bagno invece offre una soluzione molto caratteristica, che è quella della viviabilità e della conviviabilità della doccia in tutta lunghezza. In questo modo si ha una doccia quasi ad uso casalingo, non tanto per la formità quanto per la larghezza. E tra l'altro la porta della doccia, che tende sempre un po' a sbattersi, qui è bloccata da un perno che garantisce tutti gli effetti e il bloccaggio, ma soprattutto anche da una mensola porta oggetti retroilluminata con il logo, utile per poter posizionare i piccoli contenitori per la doccia. Siccome la mensola ha il suo bordo di contenimento, vale il principio degli altri. Allora, sono dettagli che, come vi ho detto prima, si potevano trovare già su un mobilvetta di qualche anno fa, ma che crescono, maturano, si evolvono, fino a generare, ad esempio, il lavello della parte del bagno con l'otturazione di uso casalingo, semplicemente a pressione. Salgo a bordo di un veicolo, non so che è mobilvetta, guardo la linea e i disegni dei mobili dei pensili, la colorazione, la facilità con cui questa maniglia, ve l'ha mai domandato perché sia più grande rispetto agli altri? Sapete perché? Ve lo spiego, perché voi siete in cucina e molto probabilmente dovete posizionare il vostro canovaccio. Invece di avere un porta canovaccio, la maniglia, che è tutta intera, funzionerà da porta canovaccio per la cucina. Ci sono sempre, anche qua, come nelle altre parti del camper, delle soluzioni di sfruttare al meglio lo spazio. Sono sempre e solo dettagli voluti e fatti per chi pensa di progettare un veicolo di fascia alta, sicuramente, ma con un occhio all'attenzione e alla tradizione del marchio. Cos'altro dirvi se non? Sempre 30 anni fa non esistevano i famosi letti sopra la diretta. Letto discendente, letto elettrico, chiamiamolo come vogliamo, ma semplicemente una soluzione di questi due letti, di questi due posti, quindi un matrimoniale o a volte anche solo di una piazza, sopra la dinette. È un toccasana, perché rappresenta il letto per gli ospiti, rappresenta un po' un letto di fortuna. Invece di stare a creare il letto dalla dinette, come succedeva 20-25 anni fa, lasciate la dinette sempre fatta, perché magari dopo cena non avete voglia di mettervi lì, di smontare i mobili, eccetera. Un semplice tasto, abbassate il letto sopra alla dinette e voi avete il letto degli ospiti. È questa l'evoluzione della specie, e questo quando io intendo dire che non è detto che il camper vecchio sia peggio di quello nuovo, sia migliore di quello nuovo. Semplicemente ha una differente tipologia di servizio e offre differenti servizi verso l'utilizzatore finale. A chi preferisce il camper nuovo, dà proprio la sensazione e offre una serie di attenzioni che quello vecchio non ha. Per questa puntata è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata dell'evoluzione della specie in camper. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.